Buongiorno a tutti, per oggi 3 gennaio 2023, io sono Antonio Lama e vi ringrazio il benvenuto nel nostro portale di informazione notizienonclick.com. Iniziamo la nostra mini rassegna flash, piluccando la lettura di qualche titolo di articolo che andiamo a pubblicare e che abbiamo pubblicato e che pubblicheremo nel corso della giornata con il nostro editorialista Francesco Ormenia che ci parla di aumento dell'interesse del mercato verso gli investimenti esigisce. Nolestamolè, Forza Italia, il futuro è il grande partito liberale e pluralista. Alimentare, centinaio, Lega, se la sinistra vuole mangiare insetti è un suo problema. Martina Navratilova ha di nuovo il cancro, combatterò con tutte le mie forze, infantino per lo sport e chiederò a tutti i paesi della FIFA di intitolare uno stadio a perete. E' un'icona del calcio mondiale. Quattargate, mestola, nessuna impunità. Questo è molto altro, potete trovare nel nostro portale di informazione. Vi ringrazio per averci seguito fin qui e vi auguro una buona giornata all'orevano.